Lavoro e vita privata, quando darsi un limite? Oggi voglio toccare questa tematica che a mio avviso è veramente affascinante e mi colpisce personalmente così come colpisce tantissimi imprenditori con cui sono a contatto ed è proprio la linea che separa la sfera personale dal lavoro nel senso che ci sono tantissimi imprenditori che adorano, amano così tanto il proprio lavoro che nel momento che smettono di lavorare non sanno cosa fare praticamente sono quelle persone che odiano andare in vacanza perché si annoiano e vorrebbero lavorare ora la cosa che mi affascina e che interessante è questa in teoria ciò che noi facciamo col nostro lavoro dovrebbe essere quello di guadagnare i soldi per avere del tempo per vivere, la logica sarebbe questa i soldi non dovrebbero mai essere l'obiettivo ma solo un mezzo per raggiungere appunto i nostri obiettivi c'è chi ama viaggiare, chi ama passare del tempo con la famiglia eccetera quindi la domanda è nel momento che tu hai un'attività e inizi effettivamente a guadagnare a mettere da parte i soldi, la tua azienda cresce eccetera quando dovresti darti un limite? nel senso tu stai lavorando 15 ore al giorno perché hai avviato la tua attività ma dopo due anni la tua attività ti permette di guadagnare facilmente 10.000, 20.000, 30.000 euro al mese quello che è, però stai lavorando ancora le tue 15 ore al giorno perché vuoi continuare a far crescere la tua azienda il problema è che il tempo che ti impieghi nella tua attività è tempo che ovviamente toglie al resto della tua vita quindi magari trascuri un pochino la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi hobby, la salute perché dovresti fare un po' di movimento, dovresti magari andare in palestra ma guarda caso non hai mai tempo insomma si affronta una serie di problemi che all'inizio non ci si pensa perché non si ha altra possibilità sei costretto a lavorare per sopravvivere ma nel momento che la tua azienda inizia a crescere inizia a portarti quel flusso di cassa insomma quei soldi che ti permettono di vivere quando dovresti dire ok adesso posso finalmente rallentare tutto il tempo che impiego nella mia attività e posso finalmente utilizzare il tempo per vivere per appunto passare tempo famiglia, hobby eccetera ovviamente io non ho la risposta assolutamente tanto più che anch'io essendo in difficoltà a gestire questo perché quello che faccio veramente mi piace, lo adoro ed è proprio la mia passione quindi se avessi del tempo libero lo dedicherei qui e questo si tramuta ovviamente in un problema perché il tempo che dedico qui come dicevo lo tolgo ad altre parti infatti io mi sono dato delle limitazioni tipo la sera alle 7 al massimo stacco tutto, non lavoro più e il sabato e la domenica ho deciso di non lavorare più mi sono di fatto dovuto dare un limite altrimenti sarei sempre stato a lavorare, a studiare, a continuare a formarmi e a fare quello che mi piace però mi rendo anche conto che la vita è tutt'altro non è solo lavoro per quanto ci possa piacere quindi la domanda, lo spunto di riflessione che voglio porti oggi è proprio questo dov'è questo limite? come fare per darci una linea che non dovremmo mai superare? insomma, quali sono i vostri pensieri? perché io davvero non so darmi una risposta se non darmi dei limiti dettati principalmente dalla licenza e non tanto da quello che vorrei fare perché ripeto, fosse per me stare tutto il giorno a fare questo comunque questo è tutto veramente dammi la tua opinione perché è un argomento che, ripeto, mi affascina tantissimo ed è veramente a mio avviso soggettivo cioè ognuno ha la sua visione e chissà, veramente non so cos'altro aggiungere comunque questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo sono sicuro che anche tu conosci tanti imprenditori che lavorano 20 ore al giorno gli piace quello che fanno soprattutto quelli di una certa età che non dedicano più tempo alla famiglia magari alla moglie, figli oramai si sono sistemati quindi lavoro, 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 lavoro ora posso capire che è una cosa che piace perché ripeto, anche io mi ci metto ma è la cosa giusta da fare è possibile che non ci sia nient'altro di meglio? fammelo sapere perché davvero mi interessa la tua opinione con questo è tutto davvero e ti saluto ciao